Come è stato per te il 2023? Sicuramente saranno capitate cose brutte e cose belle, spero più cose belle. Tuttavia i problemi capitano a tutti e le cose brutte pure. Quest'anno in generale sicuramente non è stato tra i più tranquilli e spensierati, però nonostante tutto abbiamo avuto anche delle buone notizie. Oggi quindi per una volta mi sembra giusto concentrarci sulle cose positive. Anche oggi infatti voglio concludere l'anno con una panoramica generale di casi che per anni sono rimasti irrisolti ma che finalmente hanno trovato una soluzione nel 2023. Vi parlerò di tre storie molto particolari e complesse, alcune di queste quasi del tutto dimenticate. Finalmente diverse vittime hanno trovato giustizia e mi sembra giusto ricordarle per far sì che le loro storie siano di insegnamento per noi. Preparatevi per questi tre viaggi verso luoghi, persone e situazioni davvero macabre e toccanti. Ragazzi buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui e oggi in particolare sarà una giornata speciale. Mi avete chiesto un sacco di volte di fare un nuovo video su casi freddi risolti nel 2023, quindi non c'è periodo migliore di farlo se non alla fine dell'anno. Prima di cominciare però voglio davvero ringraziarvi per aver passato anche quest'anno con me, è stato assurdo, siamo cresciuti tanto, abbiamo imparato tanto, ci siamo anche visti divertiti insieme a qualche evento, quindi non potrei chiedere di meglio. Grazie. Nel nuovo anno ci saranno sicuramente tantissime novità di cui non vedo l'ora di parlarvi. Il podcast per esempio continuerà e riceverà dei piccoli grandi miglioramenti. A proposito per chi non lo sapesse il mio podcast si chiama Red Room e lì insieme a Elisa di Alien Crimeland vi raccontiamo storie molto simili a quelle che già racconto qui, ma con un approccio un po' più intimo, come se fossimo tutti seduti insieme sul divano a raccontarci queste storie. Dateci un'occhiata qui su YouTube se vi va, oppure in tutte le principali piattaforme di streaming per podcast, tipo Spotify. Ovviamente vi lascio tutti i link in descrizione, ma nell'anno che verrà ci saranno tante altre cose a cui sto già lavorando e che non vedo l'ora di condividere, davvero. Ma non posso dire nient'altro per ora. Comunque fatta questa gigantesca premessa, scusate, cominciamo con i file di oggi. Per il primo file voglio parlarvi dello stranissimo caso di Rudy Farias. Ci troviamo a Houston nel Texas. È il 6 marzo del 2015. Sono le 18.30 e Rudolph Rudy Farias IV, chiamato da tutti semplicemente Rudy, sta portando a spasso i suoi due cani. Rudy ha solo 17 anni, ma purtroppo ha già sopportato vari traumi nel corso della sua giovane vita. Nel 2011 suo fratello ha perso la vita in un brutto incidente in moto e nel 2014 suo padre si è tolto la vita. Queste tragedie lo hanno ferito nel profondo, specialmente quella di suo fratello perché lui lo adorava. Erano migliori amici, facevano tutto insieme, erano davvero inseparabili. A causa di tutto ciò Rudy aveva cominciato a soffrire di depressione, di ansia e anche di un disturbo apposto traumatico da stress. Oltre a questo zoppicava pure da una gamba per un motivo che però non conosciamo e da tempo stava prendendo delle medicine tranquillanti. Insomma nel 2015 non sta passando un bel periodo e sicuramente sta trascorrendo intere giornate a pensare a quanto la sua vita sia dura. La maggior parte dei suoi coetanei non sta affrontando i suoi stessi problemi e probabilmente questo lo fa sentire solo, non capito e marginato. La sua famiglia sa quanto sia dura per lui, infatti sono tutti molto preoccupati, ma purtroppo molto presto si sarebbero preoccupati ancora di più. Questo perché Rudy, da quella passeggiata insieme ai suoi cani, non tornerà più, sparisce completamente nel nulla. Dopo qualche ora dalla sua sparizione i suoi genitori provano a rintracciarlo, ma del ragazzo non c'è traccia da nessuna parte. Non oso immaginare il dolore dei suoi parenti, deve essere stato davvero angosciante, anche perché in quel periodo come vi ho detto si stavano preoccupando per lui, sapevano che stava male. Quindi non perdono tempo, iniziano subito le ricerche e chiamano la polizia, ma purtroppo è tutto inutile. Per la sua famiglia questa sparizione è strana e molto sospetta. Conoscono Rudy e sanno quanto è diffidente con gli estranei. Non si fidava di nessuno, era molto attento a queste cose, quindi temono il peggio, dati tutti i problemi che stava affrontando in quel periodo. Cominciano a pensare, e se fosse scappato? Se avesse deciso di farla finita? O se avesse incontrato qualcuno di pericoloso? Queste e altre domande bombardano la mente di tutti i diretti interessati, familiari e investigatori. Ma non solo, l'intera comunità è triste e impaurita perché non sanno cosa sia successo, non sanno se il ragazzo se n'è andato di sua spontanea volontà, se si è perso o se è entrato in contatto con davvero qualcuno di pericoloso. E la situazione, dopo del tempo, dopo addirittura un mese, non migliora affatto. Questo perché vengono ritrovati i cani che Rudy quel giorno stava portando a spasso. Per fortuna loro sono illesi, ma non c'è traccia di lui. Sempre nello stesso periodo, in un parco della città, viene trovato il suo portafoglio e anche il suo inalatore per l'asma. Pure questa scoperta ovviamente fa agitare tutti, perché è evidente che è successo qualcosa, qualcosa di molto brutto. In giro per la città vengono piazzati vari manifesti con i dettagli del ragazzo. Ovunque tra quelle strade si legge che Rudy, il giorno della scomparsa, indossava jeans blu, una t-shirt nera, guanti di cotone grigi e scarpe marroni. Ma gli oggetti ritrovati sono davvero preoccupanti. Il ragazzo non si sarebbe mai separato da loro. Tutto ciò non ha molto senso e la famiglia non si dà pace. Tuttavia le risposte sembrano non arrivare. I suoi familiari sono disperati e creano anche una campagna GoFundMe per cimolare soldi per le ricerche. Oltre a questo assumono un investigatore privato, pagando a caro prezzo anche immagino. Ma anche lui purtroppo non riesce a trovare nulla. La polizia intanto continua ad indagare e valutare varie piste, ma sembra tutto inutile. E intanto i giorni, i mesi e poi gli anni passano e il caso diventa freddo. Nel 2018 però avviene una piccola svolta. Un membro della famiglia di Rudy chiama la polizia e dice che il ragazzo è vivo. Dice che sta dormendo tranquillamente in casa di sua madre. La polizia allora non perde tempo e va a controllare in quell'abitazione, ma gli agenti, stando le dichiarazioni, non riuscivano a vederlo. Non sono riusciti a localizzarlo. Pare quindi che Rudy non fosse lì. O almeno sappiamo che negli Stati Uniti, senza un mandato, gli agenti non possono entrare in casa di nessuno, quindi forse non sono neanche entrati. Hanno sbirciato magari da fuori e non hanno visto nulla. Tuttavia, grazie a dichiarazioni future, sappiamo che in qualche occasione degli agenti si sono effettivamente presentati in casa della madre di Rudy. La madre di Rudy, tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvelo, è una donna di nome Gianni Santana. Comunque. In questa occasione in cui gli agenti si sono presentati a casa sua, ovviamente non c'è stata mai traccia del ragazzo. Vabbè, c'era un ragazzo in casa, ma si trattava del cugino di Rudy, quindi ancora nulla. Nessun progresso nelle indagini. Ad ogni modo, dopo questa soffiata del 2018 in cui gli agenti non sono riusciti a localizzarlo, al dipartimento di polizia cominciano ad arrivare diverse segnalazioni di presunti avvistamenti. Il che, da un lato, è un bene perché vuol dire che il caso non è stato dimenticato del tutto. E c'è ancora gente che prova ad aiutare la polizia. Dall'altro lato, però, queste segnalazioni sviano gli investigatori e rallentano anche le indagini. E questo è uno dei motivi per cui questa storia è andata avanti per così tanto tempo. È ovvio comunque che c'è qualcosa che non va. Tutta questa faccenda sembra semplicemente assurda. Possibile che un ragazzino sia sparito così senza lasciare traccia? Anzi, lasciando solo i cani, l'inalatore per l'asma e il portafoglio. Possibile poi che dopo anni delle persone continuino a dire di averlo visto. Sono tante le domande e all'epoca purtroppo non c'era proprio modo di trovare le risposte. Passano così ben otto lunghissimi anni dalla sua scomparsa. Otto anni in cui ormai la maggior parte delle persone si era messa l'anima in pace. Dopo tutto questo tempo, ai più, era ovvio che Rudy non fosse più in vita. Arriviamo quindi all'estate del 2023, quando finalmente qualcosa cambia. Tutto riparte da una semplice telecamera di sicurezza di un ristorante. Questa riprende un signore trasandato e con i capelli lunghi. Stando al parere di alcuni testimoni, assomiglia molto a Rudy, ma a tutta l'aria di essere spaisato, confuso, come se non sapesse dove fosse chi fosse. Sempre in quel ristorante, il signore si avvicina a uno dei dipendenti e ordina del cibo, che poi consuma sul posto prima di andarsene. Il dipendente del locale giura di non averlo mai visto prima, ma dice che gli è rimasto impresso perché si comportava in un modo molto strano. Sempre lo stesso giorno, intorno alle 22, lo stesso signore avvistato al ristorante fa qualcosa di insolito. Si sdraia per terra, privo di sensi, vicino ad una chiesa nel sud-est di Houston. Un uomo che passa di lì, si ferma, lo nota e prova a svegliarlo, cerca di aiutarlo, ma capisce che da solo non può fare molto, per cui chiama il 911. Poco dopo sul posto arrivano una volante della polizia e un'ambulanza, provano subito a rianimarlo e per fortuna ci riescono. Però questo signore è completamente stordito, una volta arrivato in ospedale, tra una domanda e l'altra, i medici scoprono che ha in tasca il numero di telefono di un membro della sua famiglia, ed è così che scoprono che lui era effettivamente Rudy Farias, il ragazzo scomparso anni prima, ed è ancora vivo, ha ora 25 anni e al momento del ritrovamento è ridotto in uno stato, direi, pietoso. È davvero rarissimo trovare viva una persona scomparsa dopo tutto questo tempo. Molti lo davano per morto già da anni e ovviamente il suo ritrovamento è un sollievo, è una bella notizia. Rudy è vivo e sta bene. Gli inquirenti allora chiamano subito i familiari per informarli della notizia e sua madre scoppia a piangere dalla gioia. Anche tutti quelli che avevano lavorato al suo caso sono felicissimi di vederlo sano e salvo e pronto a tornare dai suoi cari. Tutto è bene quel che finisce bene, no? No. Dove cavolo è stato Rudy per questi otto anni? Cosa gli è successo davvero? Restano ancora parecchie domande a cui dare una risposta. Tanto per cominciare, dovete sapere che quando Rudy è stato ritrovato vicino a quella chiesa, era ferito. I medici hanno notato dei graffi e delle contusioni alle braccia e persino del sangue in testa. Inizialmente il ragazzo sembrava non connettersi bene alla realtà, diceva di chiamarsi Julio Torres e di avere 14 anni. Ma se gli agenti provavano a fargli più domande, lui cominciava a piangere disperato e si rannicchiava in posizione fetale. Evidentemente aveva qualcosa che non andava. Poco dopo sua madre ha dichiarato ai media che Rudy non era in grado di comunicare lucidamente neanche con lei e che se ne stava prendendo cura. Ha aggiunto che con il passare del tempo e con la sua guarigione sarebbe stata più che felice di condividere altri dettagli col pubblico, ma per il momento preferiva allontanarsi dalle attenzioni mediatiche, anche per il bene di suo figlio. Bene, come potete immaginare, la notizia del ritrovamento fa subito molto scalpore. I media cominciano a parlarne e sempre più persone ne vengono a conoscenza. Anche dei vicini di casa di Gianni Santana, la madre di Rudy, vedono la notizia e rimangono sconvolti. I due ragazzi chiamano subito i media e dichiarano che da quando erano arrivati lì, ovvero circa 5 mesi prima, avevano sempre visto Rudy in casa con sua madre. Ma non solo, dichiarano anche che molto spesso il ragazzo andava a trovarli. Si metteva lì con loro nel garage a chiacchierare e passare del tempo insieme, con anche cugini e altri parenti della coppia. Quindi dicono di essere davvero scioccati. Non avevano idea che quel ragazzo che vedevano spesso fosse in teoria scomparso. Allora il ragazzo aveva detto di chiamarsi Dolph, non Rudy. La situazione quindi si complica ancora di più. La prima persona a cui vengono fatte delle domande è ovviamente Gianni, la madre di Rudy. I media le chiedono spiegazioni perché sembra tutto molto sospetto. Lei quindi dichiara che il ragazzo con cui i suoi vicini si vedevano non era affatto Rudy, ma suo cugino. Procede quindi mostrando una foto di questo presunto cugino alla reporter. Poi quest'ultima torna dai vicini e chiede loro se il ragazzo con cui si vedevano fosse quello della foto, il presunto cugino di Rudy. Ma loro rispondono di no. Sono sicuri al 100% che quello con cui passavano del tempo non era lo stesso ragazzo della foto. Era invece Rudy, anche se lo chiamavano con un nome diverso. Come potete immaginare le indagini sono ancora in corso. Nessuno è stato ancora accusato di nessun crimine e di conseguenza non c'è stato un processo. Pochi giorni dopo il suo ritrovamento tuttavia Rudy in persona rilascia un'intervista con la Fox News di Houston. E quello che ha da dire fa semplicemente venire i brividi. Il ragazzo afferma di essere rimasto in casa per tutto quel tempo. Non era sparito. Era stato semplicemente fatto il lavaggio del cervello da sua madre. Tra poco approfondiamo. Prima però devo dirvi che per via di ciò che ha passato Rudy ha deciso di allontanarsi da sua madre. In questo momento a quanto ne sappiamo è sotto le cure di sua zia, la sorellastra di Gianni. E ha dichiarato di non voler più avere alcun tipo di rapporto con sua madre. Durante l'intervista e in base anche a varie dichiarazioni di diverse testate giornalistiche Rudy ha raccontato che era stato convinto da Gianni che se fosse uscito, se si fosse presentato con suo vero nome e se avesse provato a scappare sarebbe stato arrestato. Non sono chiarissime le dinamiche di questa manipolazione. Fatto sa che per qualche motivo Rudy ci ha creduto e ogni volta che si presentava a qualcuno usava un nome diverso e faceva finta di essere il suo stesso cugino. Tenete a mente che il ragazzo già a 17 anni non aveva una condizione stabile a livello psicologico. Soffriva di depressione, ansia e altri disturbi, era un po' emarginato e all'età di soli 13 anni aveva dovuto affrontare la perdita di suo fratello, che era il suo punto di riferimento, era il suo fratello maggiore. Poi pochi anni dopo, pure la perdita di suo padre. Il ragazzo non aveva alcuna figura genitoriale se non sua madre, che a detta sua gli ha fatto questo lavaggio del cervello. Durante l'intervista il ragazzo racconta anche che non era mai stato obbligato fisicamente a non uscire di casa, a non scappare o andarsene, ma era un obbligo psicologico. Ha poi raccontato di non aver mai subito violenze fisiche, sessuali, nulla di tutto ciò. Era semplicemente intrappolato dalla manipolazione della sua stessa madre. Queste però sono solo le sue testimonianze. Al momento, come vi dicevo, nessuno ancora è stato accusato di nulla e le indagini sono ancora in corso. Alla fine il caso di per sé si è risolto, nel senso che Rudy è stato ritrovato, sta bene e può finalmente cominciare a vivere una vita normale. Ma ci sono ancora troppe domande a cui gli investigatori stanno cercando di dare una risposta. Ci vorrà sicuramente del tempo e appena sapremo qualcosa in più, appena verranno trovate prove, verranno fatte accuse e finalmente ci sarà un processo, allora vi aggiornerò magari con un video breve negli shorts. Intanto sono tutti innocenti fino a prova contraria. Per il secondo file di oggi voglio parlarvi del triste caso di Gretchen Harrington. Ci troviamo a Marple Township, un piccolo soborgo di Philadelphia in Pennsylvania. Corre l'anno 1975. Gretchen Harrington ha otto anni ed è una bambina come tante altre. È dolce, graziosa, fa amicizia praticamente con chiunque ed è molto vicino alla religione. Non sappiamo praticamente nient'altro di lei, anche perché era ancora molto piccola, con tutta la vita davanti. In quel periodo la sua famiglia, in particolare suo padre, ha stretto un forte legame con un signore di tutto rispetto. Si tratta del pastore della Trinity Chapel Christian Reformed Church, con questa pronuncia qui, e si chiama David Zanstra. Padre David è conosciuto da tutti in città e viene descritto come un uomo buono, saggio, come ogni pastore cristiano dovrebbe essere. Anche il padre di Gretchen è un pastore, ma di un'altra chiesa. Come detto prima però vanno d'accordo e la bambina è felice di passare del tempo sia con la sua famiglia, quindi con suo padre, che con suo nuovo amico, quindi con David, le sue figlie che avevano circa l'età di Gretchen. E per via di tutto ciò il pastore David decide di invitare Gretchen al suo campo estivo religioso, che non era altro che un circolo ricreativo pomeridiano in cui c'era un gruppo di letture e di studio, in cui si parlava della Bibbia. Una sorta di catechismo o un oratorio, possiamo dire. Comunque Gretchen comincia ad andarci ed è piuttosto felice di farlo. Solitamente la accompagnava suo padre a questo campo estivo religioso, ma un giorno, purtroppo, non poteva accompagnarla. Quindi lei, che ormai aveva imparato la strada a memoria, il 15 agosto del 1975 decide di andare da sola, a piedi. E non era una cosa strana a quell'epoca. In quella piccola cittadina non succedeva niente, si conoscevano tutti, era sicuro e molti bambini stavano a giocare fuori fino a tardi, senza neanche la supervisione dei genitori. Quindi non era una cosa inusuale. E poi, tra l'altro, questo campo estivo non era neanche distante da casa di Gretchen. Quindi, vabbè, tutto perfetto, insomma. Eppure, all'improvviso succede l'impensabile. Gretchen, quel 15 agosto del 1975, si avvia verso il campo estivo come al solito, però questa volta da sola e a piedi. Purtroppo, non fa ritorno in casa. Il tempo passa e quella che era iniziata come una normalissima giornata diventa il peggior momento nella vita di tutte le persone della comunità. Il padre di Gretchen si preoccupa tantissimo e chiama la moglie del pastore David per chiedere le notizie di sua figlia. La signora però le dice di non aver ancora visto né la bambina né il suo marito David. Proprio durante questa telefonata, infatti, padre David entra in casa e apprende la notizia della scomparsa di Gretchen. E conferma quindi a sua moglie che quel giorno la piccola non era mai arrivata al campo. Così è proprio lui a chiamare la polizia e a denunciare la sua scomparsa. In breve tempo, il panico si diffonde in tutta la cittadina e tutti prendono a cuore la vicenda. In tanti si danno anche da fare e cercano di aiutare la polizia per ritrovare la piccola Gretchen. Sono tutti scossi e qualcuno ha anche paura di uscire di casa. In quel momento i cittadini credono che un maniaco o comunque qualcuno di molto pericoloso si stia girando per le loro strade. Marple Township era ed è un soborgo molto piccolo in cui si conoscono tutti, quindi scoprono tutti subito cos'è successo. Anche perché, come nello scorso caso, le persone cominciano ad affiggere volantini con le specifiche sull'ultimo avvistamento di Gretchen. Su questi volantini c'è scritto che la bambina è alta 1,06 e pesa soltanto circa 23 kg. Quel giorno aveva le trecce e indossava pantaloni blu scuro con una cerniera. La polizia quindi comincia subito con le indagini e interroga il vicinato così da provare a ricostruire gli ultimi spostamenti della piccola. Qualcuno dice di aver visto un'auto fermarsi a parlare con Gretchen in una via chiamata Lawrence Road, ma le testimonianze non sono molto precise. Perché qualcuno parla di una station wagon verde, mentre qualcun altro parla di una Cadillac di colore scuro, molto generale come descrizione. Un altro testimone afferma di aver visto un bambino o una bambina, comunque un infante, correre verso un adulto non meglio specificato. Insomma si tratta veramente di testimonianze che sicuramente non aiutano molto le indagini. Poi però il 19 agosto dello stesso anno la polizia trova un paio di jeans da bambina su un palo a Westchester, una città a circa 50 minuti di macchina da Philadelphia. Tempo dopo scopriranno che non erano i pantaloni di Gretchen, trovandosi di fatto con nulla in mano. Gli investigatori a questo punto non sono messi bene, non sanno da dove partire, non c'è alcuna pista. Per questo motivo passa del tempo. E a due mesi dalla scomparsa viene fatta una scoperta agghiacciante. Mentre una persona stava tranquillamente facendo jogging, trova i resti di un piccolo corpo nei pressi del Ridley Creek State Park. La bianchiera intima della vittima è appesa al ramo di un albero lì vicino, com'è simboleggiare una sorta di bandiera. Gli altri indumenti invece sono sistemati lì a fianco, ma mancano i pantaloncini. I resti vengono portati in laboratorio per essere esaminati ed è lì che si scopre che quei resti sono tutto ciò che rimane della povera Gretchen Harrington. È deceduta a causa di due o più colpi da corpo contundente alla testa. Nessuno ha la minima idea di come possa essere successo tutto questo. Tutti, ma proprio tutti, sono devastati dalla scoperta. È avvenuto un omicidio tremendo e nessuno è in grado di accettarlo. Almeno considerano l'unico aspetto positivo di questa scoperta, ovvero che adesso possono dare una degna sepoltura alla bambina, però sono comunque tutti scossi, veramente, e pensano che qualche mostro sia passato di lì e abbia ucciso una bambina a caso e sia tornato da dove se n'era venuto. Comunque è lo stesso padre David a celebrare il funerale di Gretchen e secondo le testimonianze fu una cerimonia veramente toccante che tutti i presenti si sarebbero ricordati per il resto delle loro vite. Da quel momento in tutta Marple Township cade un silenzio tombale. Gli investigatori purtroppo non possono fare molto. Siamo negli anni 70, non ci sono modi per analizzare il DNA e non c'è nemmeno una pista da seguire. Nessun sospetto, niente. Il caso diventa subito freddo e il suo fascicolo viene messo da qualche parte a prendere polvere su qualche scaffale. Purtroppo passano anni, tantissimi anni. Al momento della scomparsa erano tutti terrorizzati, ma dopo più di 40 anni, quasi 50, il caso di Gretchen sembra solo un brutto ricordo. Certo qualcuno della zona ricorda cosa è successo molto bene, ma per il resto del mondo è come se non fosse accaduto nulla. Io stesso non avevo mai sentito parlare di questa storia ed è molto strano dato che mi informo su storie del genere praticamente ogni giorno. Quindi immaginate quanto realmente non se ne parlasse, quanto fosse praticamente dimenticata. Questa storia avrebbe rischiato di rimanere risolta per sempre, se solo non fosse accaduto un mezzo miracolo. È un giorno come tanti dell'autunno del 2022 e la polizia di Marple riceve una chiamata particolare. Una testimone che ha scelto di rimanere anonima ha qualcosa di sconvolgente da raccontare. Si fa chiamare con il nome in codice SF e vuole spiegare cosa ha scoperto sul caso freddo di Gretchen Harrington. Questa persona racconta alla polizia che il pastore David aveva due figlie, Mara e Kristen. SF era la loro migliore amica quando avevano circa 10 anni. Una notte, racconta, era rimasta a dormire a casa loro per un amaparti. E si era svegliata nel cuore della notte. Ma non per un brutto sogno o per strani rumori, no. Si era svegliata perché David, il pastore, la stava palpeggiando. SF provò a parlarne con Mara e Kristen. Ma loro le dissero che loro padre, nonché il pastore, sottolineo di nuovo, toccava anche loro. I poliziotti ascoltano queste testimonianze e rimangono piuttosto scioccati, un po' basiti. Ma questo non è tutto ciò che SF ha da dire. Spiega anche di avere la certezza che David aveva tentato di rapire un'altra bambina di nome Holly per ben due volte. Racconta infine di aver trovato un suo vecchio diario datato 1975, l'anno della scomparsa di Gretchen. A suo interno aveva scritto queste parole. Indovina, un uomo ha provato a rapire Holly due volte. È un segreto, quindi non posso dirlo a nessuno. Ma penso che sia lo stesso uomo che ha rapito Gretchen. Penso che sia Mr. Zeta. La donna conferma poi che la Zeta di Mr. Zeta stava per Zanstra, David Zanstra, il pastore. A questo punto, grazie alle testimonianze di SF e varie altre prove raccolte sempre di recente, i nuovi detective assegnati al caso cercano di indagare su David. Così facendo, scoprono che poco dopo la tragedia, David e la sua famiglia si erano trasferiti prima in California e poi in Texas, atteggiamento piuttosto sospetto. Nell'estate del 2023, invece, gli agenti scoprono che viveva a Marietta, in Georgia, sempre con la sua famiglia. Per tutta la sua vita praticamente lui ha continuato a fare il pastore, spostandosi di città in città ogni tot anni. Al momento delle nuove indagini, l'ex pastore ha 83 anni e non ha idea che SF, una vecchia amica di sua figlia, aveva fornito delle testimonianze contro di lui. Il diario parla in maniera piuttosto vaga, ma è comunque inquietante e anche verosimile. Così, nel giugno del 2023, i detective vanno da lui a Marietta per fargli delle domande. E lui, come aveva sempre fatto, nega qualsiasi coinvolgimento con la morte di Gretchen. Gli danno comunque un appuntamento in centrale per un interrogatorio. E una volta lì, a luglio di quest'anno, gli agenti gli rivelano delle testimonianze di SF. L'uomo a questo punto cede, racconta tutto e confessa di aver ucciso Gretchen Harrington. Racconta che quel lontano giorno di 48 anni fa ha incontrato la bambina che si dirigeva verso il suo campo estivo religioso. L'ha fatta salire in macchina e l'ha portata in una zona boschiva. Una volta lì le ha chiesto di spogliarsi, ma lei ha rifiutato e gli ha chiesto di portarla a casa. Così lui l'ha colpita alla testa con un pugno e lei è caduta a terra perdendo i sensi. Dice poi di averle controllato il battito e rendendosi conto che era morta, ha deciso di coprirla con qualche ramo e tornare alla sua vita. Per 48 lunghissimi anni, l'uomo ha tenuto nascosta la verità e ha potuto vivere libero senza pagare per ciò che aveva fatto. Dopo la confessione, David viene arrestato e accusato di rapimento e omicidio di minore. Il caso è finalmente stato risolto, anche se alcuni dettagli della sua confessione non tornano, infatti si discuteranno a processo una volta che avrà luogo. Anche in questo caso vi farò sapere come si evolverà la situazione. La famiglia della vittima ad ogni modo viene informata di tutto e per quanto addolorata, è comunque felice di conoscere la verità. Per troppo tempo hanno vissuto con migliaia di domande per la testa e finalmente solo adesso hanno avuto risposta e, sempre e solo adesso, Gretchen avrà giustizia. Tuttavia sia loro che l'intera comunità di Marple Township sono rimasti davvero scioccati nello scoprire che proprio David, l'uomo a cui avevano dato tanta fiducia, era sempre stato il killer. Pensavano si trattasse di un estraneo, non poteva essere uno di loro, si conoscevano tutti. È stato davvero uno shock per gli abitanti. Ma non è tutto. Le autorità hanno raccolto un campione di DNA di David per confrontarlo con le tracce trovate in altri casi freddi e ancora aperti in Pennsylvania, ma anche nel resto degli Stati Uniti. Il timore è che possano esserci più vittime. L'uomo infatti ha fatto il pastore per tutta la sua vita e ha continuato a spostarsi, il che gli avrebbe reso, diciamo semplice, ad escare altre vittime. Gli agenti stanno ancora indagando a fondo su di lui, intanto però il caso di Gretchen è stato finalmente risolto. Per il terzo ed ultimo file di oggi ci troviamo a Long Island, precisamente a Doak Beach. Siamo a circa un'ora di macchina a est di Manhattan, in un posto tranquillo, perfetto per trascorrere le vacanze estive. La mattina del primo maggio 2010 avviene però qualcosa di molto strano e preoccupante. Una donna di nome Shannon Gilbert, di 24 anni, chiama la polizia. Sta al telefono per 23 minuti, alternando momenti in cui non dice nulla ad altri in cui fa capire che è in serio pericolo. Ad un certo punto urla al telefono, dice che vogliono ucciderla, implora aiuto, ma non dà altri dettagli. Poi corre lungo la costa, bussando di casa in casa per chiedere aiuto a qualcuno e riesce finalmente a trovare riparo nell'abitazione di un vecchio signore che viveva da quelle parti. Lui è gentile e ovviamente si preoccupa un sacco per questa giovane ragazza. Cioè si vede arrivare all'improvviso una donna disperata che chiede aiuto, così decide appunto di aiutarla. La fa accomodare, chiama la polizia anche lui, ma per qualche motivo ad un certo punto Shannon scappa via e sparisce nel nulla. La polizia però ovviamente è sulle sue tracce e cerca di capire cosa stia succedendo. Indagando con urgenza risalgono al nome di un uomo, uno dei clienti che la donna aveva avuto quel giorno e da lì scoprono che la ragazza aveva una vita piuttosto difficile. Shannon infatti aveva sempre venduto il suo corpo per denaro mettendo annunci sul sito Craigslist, ma a quanto pare quel giorno qualcosa deve essere andato storto. Per chi non lo sapesse Craigslist è una sorta di baccheca online in cui si possono pubblicare annunci di qualsiasi tipo. Ne abbiamo parlato proprio in un episodio del podcast che si chiama Il Killer di Craigslist. Ma comunque dopo sette mesi dalla scomparsa di Shannon, un poliziotto con un'unità cinofila sta camminando lungo la banchina dell'Ocean Parkway, sempre a Long Island, e lì vicino a dove è successo tutto il fatto di Shannon. Il cane comunque ad un certo punto fiuta qualcosa in un punto, in un punto specifico, così la gente controlla e fa una scoperta terribile. Trova dei resti umani avvolti in un sacco di juta chiuso con del nastro adesivo, ma non si trattava dei resti di Shannon Gilbert. Tuttavia la cosa che sconvolge tutti gli agenti arrivati sul posto sono gli altri resti disseminati per quel lunghissimo tratto di terra di Long Island. Trovano infatti un totale di almeno altri dieci corpi umani, tutti vittime di omicidio. Rimangono tutti inorriditi perché quel posto era praticamente un cimitero all'aria aperta, ed era così da chissà quanto tempo. Una volta diffusa la notizia, gli abitanti della zona vanno in panico, comprensibilmente. Immaginate di svegliarvi al mattino e di scoprire che nella vostra zona sono stati trovati decini di corpi umani, cioè deve essere allucinante. Ma poi quella zona era una zona balneare, la gente andava lì a farsi il bagno d'estate, cioè era un luogo felice, tranquillo. Eppure qualcuno ha usato quelle rive e quelle spiagge come luogo per smaltire dei cadaveri, molti dei quali ormai sono del tutto irriconoscibili, ma non tutti per fortuna. Conosciamo alcune delle loro identità. Erano tutte donne che avevano delle cose in comune, avevano più o meno tutte la stessa età, erano quasi tutte prostitute, o erano donne cadute in disgrazia a causa di uomini pericolosi, e in generale avevano tratti simili. Il caso di Shannon quindi viene un attimo messo da parte perché prima gli agenti vogliono concentrarsi su tutte queste altre donne e capire se esiste un collegamento tra di loro. È bruttissimo da dire, ma le prime quattro ricomposte e analizzate vengono chiamate le Gilgo Four, perché erano tutte scomparse a Gilgo Beach, che è lì vicino a Oak Beach, posto in cui era sparita anche Shannon. Le Gilgo Four vengono ritrovate tra l'11 e il 13 dicembre 2010. Le loro storie sono diverse, ma c'è una sorta di filo invisibile che le collega. La prima di queste è Melissa Barthélémy, nata il 14 aprile del 1985 a Buffalo, New York. Lei è scomparsa il 12 luglio 2009 ed è stata vista l'ultima volta fuori dal suo appartamento, seduta sul marciapiede che probabilmente aspettava il passaggio del suo cliente. Poco prima della sparizione aveva fatto una telefonata al suo ex fidanzato barra pappone, ma lui non le aveva risposto. I due non lavoravano più insieme da tempo e lui non voleva avere niente a che fare con lei, per questo ha evitato la sua chiamata. Da lì in poi, il nulla. La famiglia di Melissa si è subito accorta della sua assenza e ha cercato di chiedere aiuto alla polizia, ma senza successo. Gli agenti non hanno mostrato molto interesse al caso, e anzi hanno aspettato due settimane prima di far partire la denuncia di sparizione. In pratica sembra che ci sia stata una sorta di pregiudizio da parte delle forze dell'ordine. Pare che abbiano considerato Melissa come una donna di serie B, dato il suo lavoro. Per mesi nessuno ha avuto sue notizie, fino al ritrovamento dei suoi resti. La seconda delle Gilgo Four è Maureen Brainard Barnes, nata il 14 giugno 1982. Anche lei aveva una vita difficile, era caduta in miseria, tra problemi legali e brutte amicizie. E luglio del 2007 era andata a New York per un fine settimana sperando di guadagnare abbastanza soldi così da evitare uno sfratto imminente. Di lì a poco avrebbe avuto un'udienza nella quale si sarebbe discusso riguardo la custodia di Aiden, il suo secondo figlio. Steve, il suo ultimo ex fidanzato aveva cercato una scusa per ricevere l'affidamento esclusivo dei figli e il possibile sfratto della donna sarebbe stato sicuramente un buon motivo da mostrare al giudice. Peccato però che lei non arriverà mai a quell'udienza. Maureen viene avvistata per l'ultima volta vicino alla Penn Station di Manhattan, dopo aver affittato una stanza d'albergo a Times Square. Il giorno in cui sarebbe dovuta andare in tribunale per l'udienza poi non si è presentata. Così Jason, il suo ex marito, ha chiamato sua sorella e ha cercato di rintracciarla, ma nessuno l'ha trovata da nessuna parte. E così, dopo un po', hanno denunciato la sua scomparsa. È stata poi ritrovata anni dopo nel 2010, quando ormai era ridotta soltanto ad un mucchio di ossa. La terza delle Gilgo Four è Megan Waterman, nata il 18 gennaio 1988 a Portland, nel Maine. Il 5 giugno del 2010, Megan fa il check-in all'Holiday Inn Express di Hoppoge. Hoppoge, non so come si dica. Comunque è un soborgo di Long Island che dista circa 40 km da Gilgo Beach. Verso le 8 di sera di quel giorno viene vista uscire dall'albergo con il suo ragazzo. Vibe. Un tossico dipendente. Megan fa poi il ritorno mezz'ora dopo per trascorrere alcune ore nella sua camera d'albergo. In quelle ore fa alcune telefonate ad amici e familiari, inclusa una a sua nonna, che in quel momento stava facendo da babysitter a sua figlia. Cioè, la nonna stava guardando la figlia di Megan. La ragazza telefona anche sua madre, con la quale aveva avuto diversi liti nel corso del tempo, ma con la quale sperava di chiarire, sperava di farci pace. L'ultima telefonata poi la fa a luna e venti del mattino a Vibe, il suo ragazzo. Circa dieci minuti dopo le telecamere di sicurezza la riprendono mentre lascia l'hotel. Forse stava per incontrare un cliente, dato che aveva pubblicato un annuncio su Craigslist solo un'ora prima. Da quel momento però, il nulla. La ragazza il mattino seguente ancora non è rientrata in hotel, ma il suo ragazzo non lo sa. Pensa che semplicemente non si sia ancora svegliata perché lui non aveva dormito nella stanza d'hotel con lei. Quindi comincia ad innervosirsi, chiama i suoi amici e la sua famiglia e chiede informazioni su Megan, ma purtroppo nessuno sa nulla. Allora chiede al personale dell'hotel di controllare la sua stanza, e una volta fatto scoprono che lei non c'era, non era ancora tornata dalla sera prima. Purtroppo a causa delle attività illecite di Vibe e la conseguente possibilità di essere arrestato, il ragazzo non denuncia subito la sua scomparsa. Tuttavia alla fine viene comunque arrestato per altri crimini, ma nessuna prova è in grado di incriminarlo per la scomparsa di Megan. Anche lei, come le altre, verrà ritrovata in un sacco di juta ridotta solo ad un mucchio di ossa. La quarta ed ultima delle Gilgo Four è Amber Overstreet, nata nell'ottobre del 1983. La sua storia è la più complessa di tutte. Lei forse è quella che è stata maggiormente tradita dalla vita. Per anni ha lottato contro infiniti problemi, sia familiari che personali. Per un po' di tempo ha trovato una sistemazione, vivendo in casa di sua sorella e di suo marito. Ma poi il gruppo si è allargato e in qualche modo si sono tutti rovinati a vicenda. Lei e sua sorella, corrose dalle sostanze e da vari problemi familiari, hanno deciso di fare le prostitute a tempo pieno. Così il 2 settembre 2010, Amber è andata con un cliente barattando prezzo e condizioni. Chiunque fosse questo cliente, aveva promesso ad Amber un sacco di soldi per una notte insieme, almeno 1500 dollari, e sarebbe passato a prenderla sulla strada verso le 22. Quella sera quindi Amber è per strada che aspetta il suo cliente. È sola e in quel luogo non c'era nessuno che potesse vederla né tantomeno nessuno che la conoscesse. Quindi purtroppo, sparisce nel nulla anche lei. Ma a causa di tutti i problemi familiari, nessuno denuncia la sua scomparsa. La cosa più strana però è che quando è uscita quella sera, ha lasciato a casa sia la borsa che il telefono. Cioè è uscita così, senza prendere praticamente nulla. Forse aveva riposto troppa fiducia nel suo cliente. Ma vabbè, il punto è che purtroppo anche i suoi resti verranno ritrovati a Gilgo Beach. Irriconoscibili. I resti delle Gilgo 4 ovviamente non sono gli unici che vengono trovati in quel periodo. Ce ne sono tanti altri. Troppi. Alcuni di questi vengono effettivamente identificati. Trovano Jessica Taylor, di vent'anni, che viveva a Manhattan quando è scomparsa. Aveva lavorato a Washington e Manhattan come prostituta ed era stata vista l'ultima volta intorno al terminal degli autobus di Port Authority, a Manhattan. Questo avvistamento era stato fatto tra il 18 e il 22 luglio 2003, quindi abbiamo anche una testimonianza poco precisa. Trovano poi i resti di Valerie Mack, di 24 anni. Lei era stata vista l'ultima volta dai membri della sua famiglia nell'estate del 2000 nell'area di Port Republic, nel New Jersey. Poi Tina Elizabeth Foglia, di soli 19 anni, che era stata vista per l'ultima volta nelle prime ore del mattino dell'1 febbraio 1982 presso il locale di musica rock, Hammerheads, a West Islip. Aveva fatto l'autostop da casa sua al locale per vedere una sua amica esibirsi con la sua band. Poi ancora trovano Jacqueline Ashley Smith, di appena 16 anni, che è stata vista l'ultima volta a Brooklyn, New York, il 7 agosto 1999. Era uscita di casa alle 21 per andare da alcuni amici, ma non è mai più tornata. È stata dichiarata scomparsa il 12 agosto 1999. Poi Tanya Rush, una donna afroamericana di 39 anni, che è stata vista l'ultima volta il 23 giugno 2008, intorno alle 3 del mattino, mentre camminava verso una stazione della metropolitana a Brooklyn. Vengono trovati poi anche i resti di un uomo di nome Andre Isaac, che era una drag queen professionista, conosciuta con il suo nome d'arte, Sugar Bear. Oltre a lui ci sono altri resti particolari, come altre donne ancora oggi non identificate, e purtroppo persino bambini. Per anni questa storia è rimasta scolpita nella cronaca nera come il Long Island serial killer, perché diversi indizi suggeriscono che il responsabile di tutti questi morti sia una sola persona. Moltissime delle vittime avevano un passato in comune, molti di loro avevano un aspetto simile, cioè erano donne giovani, con capelli chiari, magre e di statura media. Certo ci sono anche delle eccezioni come Tanya Rush e Andre Isaac, e anche i bambini. Ciò non toglie comunque che la maggior parte di loro presenta diversi punti in comune. Le indagini comunque proseguono, e nel dicembre del 2011 vengono trovati anche i resti di Shannon Gilbert, scomparso ormai più di un anno prima. Purtroppo però, per vari motivi, questo caso è stato portato avanti fino ai giorni nostri, e il principale fra questi motivi non saprei come chiamarlo, quindi lo chiamiamo strafottenza. Purtroppo infatti moltissimi agenti, specialmente quelli che al tempo hanno avuto a che fare con le Gilgo Four, non si sono interessati troppo alle vittime, e si suppone non si siano interessati proprio perché erano prostitute. Ciò ha indubbiamente rallentato le indagini, ma un altro motivo per cui il caso è diventato freddo è che molti dei resti trovati erano troppo consumati, la maggior parte ormai decomposti. Non tutti i ritrovamenti quindi sono stati in grado di darci dei nomi e delle storie come è stato per le Gilgo Four e poche altre. Quindi in sostanza pochi resti hanno aperto poche piste che non hanno portato a niente. Il caso del soprannominato Long Island Serial Killer diventa freddo, e le povere vittime di questo, o questi assassini, vengono quasi dimenticate. Anzi direi che vengono dimenticate proprio. Ma per fortuna gli investigatori non le dimenticano, non si arrendono, e continuano a lavorare per tutti questi anni. E finalmente solo di recente sono riusciti a restringere il campo a pochissimi individui sospetti. Sono arrivati al punto di sapere che il responsabile è indubbiamente collegato ad un camioncino verde avvistato da un testimone. Quindi si concentrano su un uomo in particolare, un certo Rex Heuermann. Questo uomo guida spesso un camioncino verde intestato a suo fratello, e indagando su di lui scoprono che corrisponde la descrizione fisica di un testimone che vive vicino a Long Island e lavora nelle parti di New York. A quanto pare, in tutte quelle zone che questo Rex frequenta, nel corso degli anni sono state registrate diverse telefonate sospette da parte di tre delle vittime di cui abbiamo parlato prima, ovvero Melissa, Megan e Amber. Tre delle Gilgo Four. I registri dei cellulari e delle carte di credito poi rivelano numerosi casi in cui Rex si era trovato vicino ai luoghi delle scomparse. L'uomo quindi viene tenuto sotto stretta assorbazione, e anzi nel marzo del 2022 le autorità mettono proprio sotto sorveglianza lui e la sua famiglia. Ci mettono un po' di tempo, ma alla fine, nel gennaio del 2023, gli investigatori riescono ad ottenere un campione completo del DNA di Rex, e ci riescono solo grazie alla crosta di una pizza che aveva lasciato e che aveva poi gettato nella spazzatura. Il DNA viene quindi analizzato subito e comparato ai pochi resti di DNA trovati sulle vittime. E sorpresa? I risultati? Finalmente combaciano. Tutto è collegato. Eppure è strano per i detective perché oltre a questa prova Rex non dava nessun segno di alcuna attività criminale che avesse una doppia vita. È probabile e non sarebbe certo il primo serial killer ad averla. Il DNA comunque basta affermarlo e tenerlo in cella mentre gli agenti cercano di scoprire di più su di lui controllando la sua casa e spulciando un po' tra le sue cose. Ed ecco infatti che saltano fuori ben 92 pistole registrate a suo nome. Ovviamente si pensa che molte di queste, o forse addirittura tutte, siano state usate negli omicidi. Gli investigatori non lo escludono. Quindi l'architetto 59enne Rex Heuerman, sposato e con due figli, viene arrestato e tenuto in prigione in attesa di processo. Molti adesso lo definiscono come un demone che cammina in mezzo a noi. Bisogna considerare però che ancora non è stato collegato a tutti gli omicidi trovati a Long Island. Ma dato che è collegato a tre delle Gilgo Four, c'è la buona probabilità che sia responsabile di tutte quelle morti. Purtroppo siamo ancora in attesa di un verdetto definitivo. Intanto però stanno girando un documentario su di lui. E ha fatto scalpore una notizia secondo cui l'Happy Face Killer, un altro criminale che ha recentemente ammesso il suo ottavo omicidio seriale, ha detto di avere un nuovo amico di penna dietro le sbarre. Riferendosi proprio a Rex. Strano. Nel frattempo comunque l'uomo si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio di primo e secondo grado. Per cui la storia in realtà è tutt'altro che conclusa. Eppure da come ne parlano le fonti pare proprio che il grosso del lavoro sia stato fatto. Manca solo il processo e la condanna. Finalmente alcune delle vittime, e chissà forse presto tutte, avranno giustizia. Intanto abbiamo la sicurezza che almeno in parte Rex è stato responsabile della morte di persone innocenti e quindi deve pagare. Bene ragazzi, è stato intenso. Storie diversissime tra loro, con persone altrettanto diverse tra loro, ma che hanno tutte una cosa in comune. Stavano per essere dimenticate. Ma il 2023 è venuto in loro soccorso e ha dato loro giustizia, almeno in parte. Una magra consolazione potrete dire, ma ragazzi in queste storie orribili la cosa più bella che possa capitare è che venga trovato un colpevole. Quindi ringraziamo che questi mostri non siano più in giro e che Rudy sia libero di vivere finalmente la sua vita serenamente. Fatemi sapere tutto ciò che pensate qui sotto. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che purtroppo il prossimo venerdì non usciranno video, perché è festa pure per me. Ma ci vedremo direttamente il venerdì seguente. Non preoccupatevi, continuerò a portarmi avanti con i video così non ci saranno mai più rallentamenti nelle pubblicazioni o cose così. Tranquilli. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora, vi auguro buon anno e ancora buone feste e vi do appuntamento a venerdì 12 con un altro file. Ciao!